Perché è importante questo match più di tutti quelli giocati negli ultimi 40 anni tra due italiani? Perché non capitava di avere un finalista slam contro un semifinalista slam da così tanto tempo, bisogna prendere l'ultimo confronto giocato tra Barazzutti e Adriano Panatta nell'81 a ottobre a Barcellona, era un ottavo di finale, da allora non c'è stato più un match di questo prestigio al maschile, perché poi ovviamente non si può dimenticare la finale del 2014 tutta italiana tra ovviamente Roberta Vinci e Flavia Pennetta, però a livello maschile diciamo è questo il match che in qualche modo, 2015 intanto perché mi era venuto il dubbio e non 2014, un match che non c'era ancora stato, c'era stata un'occasione in cui poteva esserci ma poi non è successo, hanno già giocato in doppio insieme più di una volta, Sinner e Musetti nelle competizioni a squadre, hanno anche avuto questa staffetta nella TP Finals quando purtroppo Berrettini si è infortunato nel 2021, io penso che sia una partita meno scontata di quanto molti la facciano apparire, io su Twitter ho lanciato il sondaggio per dire chi vince questa partita, in tantissimi stanno dicendo Sinner, va detto che diciamo Sinner si è preso una pausa, ha spiegato anche nelle dichiarazioni di aver fatto un allenamento quasi come se fosse una off-season, cioè si è dedicato due settimane alla preparazione di questa fase della stagione, secondo me veramente lui finora, a parte la parentesi terra rossa e soprattutto Roland Garros perché è quello che pesa di più, più che di Roma, ma è figlio delle conseguenze del torneo non buono giocato a Roma dove lui ci teneva tanto, ha fatto veramente una grande preparazione e questo magari potrebbe non pagare subito a Toronto, non per un discorso come si fa sempre di carico di lavori, ma secondo me perché Sinner deve giocare il primo match da questa pausa, dalla semifinale di Wimbledon persa con Djokovic e poi perché il derby è sempre il derby, cioè giocare contro un tuoco nazionale nel tennis è una partita un po' strana, cambia un po' i valori, detto che secondo me per quello che ha fatto vedere anche Berrettini al primo turno sono vicini come giocatori, oltre che come palmaresse, mi sembra un Berrettini che stia proseguendo in linea rispetto a quanto ha fatto vedere a Londra, ai Championship dove ha perso Dal Carasi in 4-7. Gli italiani benissimo, 3 su 3, c'è anche Arnaldi che ha vinto, però voglio tornare sul discorso di Berrettini e Sinner, credo, come qualcuno ha scritto anche commentando appunto quello che ho poi postato su Facebook, per una volta lasciamo da parte il tifo e godiamoci proprio la partita, sperando che sia una bella partita, perché per esempio abbiamo visto anche di recente altri derby di altro livello, diciamo anche Sinner Musetti, Musetti Nardi, non è facile che sia una bella partita, però io confido che ci sia la volontà, da parte di tutti e due di far vedere, tra virgolette, chi comanda, chi è il più forte, e quindi di alzare il più possibile l'asticella e di non pensare troppo, soprattutto da parte di Sinner, di chi c'è dall'altra parte, perché penso che, anche se ultimamente Berrettini ha fatto capire che comunque il suo amico del circuito ci sta, è Sonego, e comunque non con tutti magari il rapporto è così costante, si sentono così tutti i giorni, però in realtà poi quando si trovano nei tornei c'è un feeling fantastico tra i giocatori italiani e anche tra Berrettini e Sinner, però ha sempre speso parole molto buone Sinner per Berrettini, anche viceversa, però Berrettini, ripeto, ha fatto capire che non è che si sentano così spesso come avviene con anche altri che non si chiamino Sonego, ma ripeto, c'è un ottimo rapporto tra i giocatori azzurri, e quindi spero davvero che possa essere soprattutto una bella partita.